Bella boys, Sax è qui, vi saluta come sempre e vi ringrazio per tutto il sub che mi avete fatto e spero che questo video vi possa piacere il nuovo mouse è arrivato e vedrete delle belle in questo video vi ricordo che sono sempre quasi in live ogni giorno quindi vi ricordo di attivare la campanellina Twitch in descrizione per iscrivervi e seguirmi anche lì YouTube, beh, sapete cosa fare per trovarvi un saluto da Sax, Bella boys l'ultimo nemico è rimasto non hai più il disinnescatore nuovo caricatore ragazzi sono dentro, ho fatto tre easy vigile erano i progetti ricarico abbiamo il disinnescatore un nemico che bravo il controllo non problem no problem non è vero non è vero l'innescatore è stato recuperato così si gioca ragazzi easy free fire testa netta il back mio main ragazzi così si gioca ultimo attacchi anteriore guarda 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 guard brucia questa ragazzi è piuttosto interessante Sì Un ingitore la squadra d'attacco ha eliminato i disminitori easy oh mio dio che chi l'ho fatto raga questa ne va le 10 no vabbè easy easy azzerrata staccia staccia aroso planting in bambi Dove maestro? Dov'è? Dovrebbe essere un altro site, però non lo so Non voglio dare riuscire Go, go, guardi 10 secondi Rapid rotation Ricarico L'innescatore è attivo, proteggetelo a tutti i costi No problem E' uscita, è uscita, go, 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 go Ti viene da dietro, Saksa, da stati, da studio, da studio E' Saksplaccia Fa' culo, va Ricarico l'arma Ho trovato una bomba Ho trovato una bomba In una zona controllata dal nemico Lasciala subito Ed ecco qua, finalmente ragazzi Posso usare il mio cazzo di mouse Che reazione Che reazione, ragazzi Madonna Guarda Mettola d'aria Perfetto, eccoci qua Eh bro Prossimo round Il drone è portato Usmi, puzza di sotto Hai messo il disinnescatore Sì, puzza di sotto C'è un nemico Un operatore alleato rimasto Un nemico Un bel buco al gigante in arrivo Ho trovato una bomba Disattivazione dispositivi Asseco! Asseco! Mane un nemico! Asseco! Via! Precarica! Easy! Easy! Let's go! I found a bomb! The last attack left! I found a bomb! I found a bomb! Victory for the defense! The enemies eliminated! Reactivated! Not a bomb! No! Oh, I found a bomb! All right! Please let go! Resta solo un operatore alleato Il disinnescatore di bomba è stato piazzato Ultimo attaccante rimasto in vita Resta solo un operatore Grazie Squadra d'attacco eliminata, fine completata Ma... Cioè no, vabbè Vabbè raga, ma no, ditemi Ditemi voi, ditemi voi E allora, guardate Puff Cioè no, vabbè Ciao 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 Ciao